Il nostro servizio si rivolge a professionisti di diverse categorie, piccoli professionisti, che hanno bisogno di far crescere la propria attività attraverso il canale online. Oggi investono su Google piuttosto che sui social network per essere visibili, oppure su portali specializzati, ma nessuna di queste soluzioni dà la possibilità di avere un ritorno economico garantito. Noi invece selezioniamo in diversi settori professionisti qualificati e gli diamo un sistema di promozione digitale e di integrazione con prenotazione e pagamenti senza correre alcun rischio, perché soltanto sulla base delle performance effettivamente ottenute grazie al portale sostengono un piccolo costo. A che destinato? I servizi principali che vengono venduti tramite il nostro portale sono i servizi di bellezza, i servizi per la casa, le riparazioni auto, quindi tutti quei servizi che servono principalmente alle famiglie. Quindi per la famiglia il vantaggio principale di utilizzare il nostro servizio è che sanno sempre in anticipo quanto dovranno pagare, perché sono servizi standard per i quali i professionisti che selezioniamo dichiarano in anticipo prezzi e condizioni di fornitura. E inoltre grazie al pagamento online, perché gestiamo l'intero processo di acquisto dalla ricerca fino al pagamento, sanno sempre con certezza qual è l'importo finale del pagamento e allo stesso tempo il professionista è certo dell'avvenuto pagamento. Grazie. 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 Grazie.